Continuano a Chieti i disagi dovuti a carenza di acqua, in particolare a Chieti Scalo nella zona della stazione dove da prima della mezzanotte diminuisce il flusso idrico che si riduce a una disponibilità di acqua irrisoria per poterla utilizzare. I residenti e i commercianti sono esasperati, da una parte le bollette salate stridono con il servizio erogato attraverso impianti scadenti, dall'altra la mancanza del flusso di acqua notturna per molti commercianti che lavorano in quelle ore rende impossibile l'attività commerciale. Gli unici ad avere un po' di sollievo sono coloro che hanno installato un'autoclave, una spesa che però non tutti possono permettersi. Disagi anche per gli abitanti di una parte di via Arenazze dove finalmente ieri è stata riparata la tubatura che perdeva notevoli quantità di acqua, una perdita che creava pozze nelle vicinanze del cancello per i pedoni del condominio del civico 23 di via Arenazze. La fuoriuscita di acqua, secondo quanto raccontano i condomini, proveniva dall'ex edificio dedicato all'asilo, attualmente adibito alle attività degli scout. Ieri finalmente sono arrivati gli operai dell'ACA e per il momento almeno questa dispersione di acqua è stata scongiurata.